ciao sono lorenzo e frequento il liceo linguistico lambluschini di montalcino ti stai chiedendo quale scuola scegliere vediamo ti piacciono le lingue ti piace viaggiare sei curioso hai voglia di conoscere modi di vivere e culture diverse dalla tua se sei così allora vieni da noi sì perché qui a lambluschini stediamo quattro lingue inglese hanzeh deutsch e spagnolo che facciamo in prima e in seconda e per un'ora alla settimana abbiamo un insegnante madrelingua sai chi è un prof che ci parla nella sua lingua madre e ci aiuta a correggere la pronuncia in modo divertente ma non finisce qui facciamo anche le certificazioni linguistiche gli scambi e i soggiorni studio detto fra noi non vedo l'ora di essere in quinta per fare tre mesi all'estero con l'erasmus capito a me piace avere lo zaino sempre pronto anche a te vero e poi l'esabac studiamo storia in francese dalla terza alla quinta e con l'esame finale conseguiamo il diploma di esame di stato e baccalo e avere due diplomi è meglio che averne uno diciamolo choose better than one più possibilità di iscriversi alla università più opportunità di lavoro spaventato la tua idea di vivere sul territorio il lambruschini l'ho scelto anche per le opportunità professionali anche da noi facciamo alternanza e impariamo a raccontare in lingua il territorio il mondo del vino il progetto si chiama m l e mediazione linguistica e analogica l'ho scelto anche per la didattica classe 2.0 in questi momenti difficili che stiamo vivendo la scuola porta avanti le lezioni senza problemi e dal 2015 che in classe utilizziamo gli ipad quindi fare la dad che ora si chiama ddi è stato naturale poi abbiamo il nostro giornale scolastico il gazzettino per confrontarci sui temi di attualità puoi leggerlo anche su facebook e instagram all'ambruschini abbiamo la settimana corta il sabato stiamo a casa se vuoi conoscerci meglio segui i nostri pendelli i giorni le modalità di accesso li trovi sul sito del nostro liceo dai non perdere altro tempo iscriviti all'ambruschini iscriviti da noi ciao ciao